Puoi parlare di questa nuova struttura? Il Comune di Arezzo si è apprestato a costruire il nuovo polo ospedaliero e quindi ha liberato quest'area che era costituita e formata da tanti padiglioni sempre ad uso di ospedale per le varie specializzazioni e ha dato la possibilità di creare un nuovo centro del Tribunale. Fino a poco tempo, prima il Tribunale per la città di Arezzo si trovava all'interno della città murata, quindi di piazza Vasari. Liberando quest'area ha dato sfogo e è venuta fuori questa nuova costruzione molto avveneristica per la città di Arezzo. Questa costruzione è stata progettata dall'architetto Manfredi Nicoletti, architetto italiano nato da Rieti e residente attualmente a Roma, un architetto di fama internazionale. Con questo nuovo fabbricato si è rivalutata quest'area che prima naturalmente era un'area completamente recintata, chiusa da un muro perimetrale con all'interno questi spazi a uso ospedalieri. Liberando questa zona ne è venuto fuori un'area veramente nuova per la città di Arezzo. Quest'area si trova geograficamente nord-est per la città. Questo nuovo polo, definito dagli aretini la vela per le sue caratteristiche, come dicevo prima è molto avveneristico. Il progetto del 2002 di Nicoletti ha avuto anche un riconoscimento ufficiale dalla comunità degli architetti internazionali, vincendo nel 2002 un premio come migliore edificio per l'anno 2002. Questo è un edificio che ha una pianta, se si può analizzare l'edificio, ha una forma abbastanza strana, quindi ha una parte completamente murata nella parte retro, quindi che richiama, a detta del progettista, le mura cittadine della città di Arezzo e è la parte a nord. È una parte completamente che si libera, che si apre verso la città, che è completamente vetrata, che è la parte praticamente verso sud. La presenza di questo grigliato metallico, che naturalmente sembrerebbe strano, ha una funzione di bioclima per l'edificio stesso, in quanto i raggi solari, battendo su tutte queste lamelle metalliche in acciaio a vista, riescono a poter mitigare il caldo che può creare questa parete vetrata nel periodo estivo. Di che maniera questa architettura molto moderna si integra al quartiere? Come si sposa questa struttura con il quartiere? Come dicevo prima, questa struttura si integra molto bene con il quartiere. Addirittura c'è un legame, l'edificio moderno, supermoderno, con un edificio datato e di un'architettura classica. Infatti, se si può guardare bene, questo edificio moderno è collegato con l'edificio di stile razionalista degli anni 30, che è qui alla mia destra. Quindi abbiamo un elemento di congiunzione che è questo ponte o tunnel. Nel complesso, questo edificio ha dato la strada alla realizzazione di altri edifici, come si può osservare l'altro, questo qui, di fronte a noi, rivalutando naturalmente quest'area qui, che è stata ingessata per tanti anni a seguito della presenza del polo ospedaliero. E liberando quindi la creazione di questo nuovo quartiere ad uso sia direzionale che a uso abitativo. Infatti, oltre che il nuovo polo del tribunale, le realizzazioni hanno dato la possibilità di formare nuove edifici ad uso abitativo e dare una zona, quindi residenziale, che naturalmente non esisteva prima in quest'area ubicata a nord-est della città. Cosa c'è all'interno della nuova struttura? La nuova struttura è formata da tre piani fuori terra. Quindi c'è un piano terra, un piano primo e un piano secondo. E più c'è un piano interrato ad uso di servizio, quindi archivio e garage. A piano terra, oltre a una bellissima hall, tutta in marmo e in nero assoluto, troviamo due aule, una nettamente grande e quindi la possiamo definire un'aula di assise, di corte d'assise e un'aula più piccola per celebrare i processi, diciamo, di un carattere mediatico leggermente inferiori. Quindi a piano terra abbiamo queste due aule. Nel piano superiore, oltre le segreterie varie, il progetto prevede due stanze per la stampa che sono collegate direttamente con le due aule di tribunale sottostante. Quindi servono, naturalmente, durante la celebrazione dei processi, per far soggestare i giornalisti che seguono i processi stessi. All'ultimo piano, che naturalmente è di dimensioni nettamente più piccole, in quanto questa è una struttura conica che è la parte superiore più piccola, si trova l'ufficio del presidente del tribunale di Arezzo, compreso la sua segreteria personale. Quindi questo edificio, alla fine, contiene, questo contenitore, le due aule. Mentre tutti gli altri uffici necessari per svolgere un'attività giudiziaria si ritrovano nel vecchio edificio, chiamato dagli aretini Garbasso, dove abbiamo sia la sezione, la cancelleria, quindi sezione cancelleria penale, e la sezione cancelleria del civile. Quindi all'interno, ora è chiuso, non ci si può andare, lei vede queste due aule che si allargano e veramente sono di effetto anche per l'uso dei materiali che Nicoletti ha usato. Grazie. Grazie. Grazie.